Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, apertura del telegiornale dedicata oggi all'attività svolta dalla Guardia di Finanza di Gela. Le fiamme gialle hanno puntato la loro attenzione su un supermercato al fine di verificarne la corretta applicazione della normativa fiscale. E' emersa invece la detenzione e la commercializzazione di prodotti scaduti tra cui note marche di biscotti e omogenizzati. Vediamo. Un normale controllo per verificare la corretta applicazione della normativa fiscale ha fatto emergere la detenzione e la commercializzazione di prodotti scaduti tra cui note marche di biscotti e omogenizzati. E' quanto accaduto in un supermercato di Gela. L'operazione è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza diretta dal capitano Massimo De Vito. Le fiamme gialle coordinate dal tenente Gilberto Gerli hanno sequestrato 1980 prodotti tra bottiglie di acqua, bevande alcoliche, birre, prodotti per il corpo e la cosmesi, detergenti e igienizzanti. Quest'ultimi indirizzati soprattutto ai bambini. Abbiamo trovato una situazione completamente diversa, ossia esposte in libera vendita merci scadute anche da parecchio tempo. Per esempio cozze risalenti a febbraio 2015, vino in cartoni di luglio 2014, dolcetti vari risalenti al novembre 2014. Quindi ciò che ha catturato l'attenzione degli operanti è stato il fatto che fossero messe in libera vendita prodotti per la cosmesi, per l'igiene personale, cibari e bevande alcoliche e analcoliche, destinate anche a un pubblico di piccini e che non rispettavano sostanzialmente, probabilmente, tutte quelle garanzie che ci si aspetta da un rivenditore di alimenti. A nulla è valsa la giustificazione del titolare del supermercato circa la dichiarata chiusura del locale. Gli operanti militari si sono avvicinati all'attività commerciale in Borghese e uno dei militari si è avvicinato all'esercizio commerciale fingendo di essere al telefono. E il proprietario e il personale dell'attività commerciale lo hanno invitato a lui e ai colleghi ignari di chi fossero a entrare nell'esercizio commerciale e comprare qualsiasi sorta di genere alimentare. E quindi da lì poi è partito l'intervento. Si tratta di merce scaduta, ma secondo voi già qualcuno questa merce scaduta l'ha acquistata? Il buon senso ci dice che date così antiche fanno presupporre che fossero esposte lì da parecchio tempo. In secondo luogo già nei mesi scorsi sono state svolte attività sempre nei confronti dello stesso soggetto, volte a verificare la sua apertura e il suo effettivo esercizio dell'attività commerciale. E abbiamo riscontrato che era aperto, funzionante e con clientela all'interno. Adesso comunque i nostri controlli andranno avanti e verificheremo anche il rispetto della normativa in materia di lavoro neole, che ovviamente è un aspetto non secondario della nostra attività. E soprattutto bisogna dire che l'attività della Guardia di Finanza di ieri in un periodo di crisi del settore agroalimentare come quello di oggi simboleggia ancora di più l'attaccamento delle forze di polizia nella tutela della salute da parte dei cittadini e della libera concorrenza anche dal punto di vista dei prezzi per tutti gli altri imprenditori in generale che si vedono danneggiati per esempio da questi fenomeni di attività commerciali che espongono merce scaduta a un prezzo sostanzialmente inferiore rispetto a quanto accade negli altri luoghi. Cambiamo argomento, parliamo della protesta dinanzi ai cancelli della raffineria Eni da parte dei lavoratori della nuova X-Gamma. Vediamo. Monta l'attenzione alla raffineria Eni di Gela. Questa mattina gli operai della nuova X-Gamma hanno protestato dinanzi ai cancelli in merito ai licenziamenti comunicati dall'azienda a tre lavoratori dello stesso gruppo. Gli altri colleghi dell'indotto si sono fermati per un'ora a sostegno della protesta. Il sit-in è stato appoggiato dalle segreterie provinciali di FIOM, FIM e UILM. Nessuno degli operai ha voluto rilasciare dichiarazioni. Questo è un momento difficile un po' per tutti e abbiamo chiesto all'azienda di rivedere la loro posizione in merito ai licenziamenti o alla procedura intimata nei confronti di alcuni lavoratori. Infatti abbiamo chiesto in questi giorni pure l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro affinché questa soluzione rientrasse e chiediamo ufficialmente e lo chiederemo nelle sedi istituzionali all'azienda di attivarci per vedere se c'è qualche ammortizzatore sociale al fine di evitare i licenziamenti in un momento già difficile per il territorio visto che gli investimenti e quindi le attività in questo momento stiamo facendo il possibile che si attivino al più spesso per alleviare la sofferenza dei lavoratori e delle imprese. I lavoratori attendono ancora due mensilità retrate e confermano di non avere mai rifiutato eventuali trasferte in altri siti. Domani è previsto un incontro all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Caltanissetta. I segretari sindacali, Orazio Gauci, Angelo Sardella e Nicola Calabrese dovrebbero confrontarsi con i responsabili locali della nuova X-Gamma. Noi stiamo lavorando con tutte le istituzioni affinché quegli impegni presi a Roma si concretizzino nell'immediato perché come dicevo poco fa c'è fame di lavoro, la gente vuole lavorare, non vuole vivere di ammortizzatori sociali e il sindacato insieme a tutte le istituzioni senza fare populismi sta cercando di lavorare assiduamente affinché tutto quello che è possibile venga fatto nell'immediato, quindi in termini di investimenti, di autorizzazioni e di quant'altro. Intanto ieri a Roma vertice per le bonifiche presente l'amministrazione comunale. Sentiamo. Il sindaco di Gela, domenico messinese, l'assessore al territorio e l'ambiente con delega alle bonifiche Simone Siciliano fissano i paletti e lo fanno al Ministero dell'Ambiente a Roma iniziando proprio dall'ampliamento delle aree del sito di interesse nazionale includendo gli 80 pozzi e 60 chilometri di oleodotti presenti sulla piana di Gela. L'allargamento, ha detto il primo cittadino, non deve servire come ulteriore cagliardetto ad appendere nelle pareti di una città in cui il SIN è sinonimo di morti premature e malformazioni neonatali. L'amministrazione comunale gelese ha consegnato ai faldoni con relazioni e dati che interessano l'impatto sulla salute dei cittadini derivanti dalla presenza del polo industriale con l'indirizzo di recepire ed agire rivolto ai referenti dell'Istituto Superiore della Sanità e del Ministero. Al di Castello dell'Ambiente è stato chiesto di rimuovere i resti della motonave New Rose con il suo carico inquinante definita dagli amministratori gelesi una bomba ecologica. Il tavolo tecnico di ieri ha finalmente dato inizio al processo per chiudere i procedimenti di bonifica aperti da troppo tempo in un processo sinergico tra istituzioni che faranno fronte comune nelle conferenze di servizio che da oggi si riuniranno periodicamente, lo ha detto l'assessore siciliano. D'ora in poi non sarà più ammessa l'assenza della regione siciliana che dovrà invece essere presente con tutti i suoi funzionari esecutivi per non avere più ulteriori rinvii su un tema su cui l'amministrazione comunale si batterà instancabilmente. Al vertice romano infatti la regione ha inviato soltanto un delegato e un subdelegato dell'assessorato alla salute nonostante in tema di bonifiche si è coinvolto anche il Dipartimento Acque e Rifiuti dell'assessorato all'Energia. Continuano gli appuntamenti inseriti nel progetto di educazione all'affettività promosso dall'Istituto Comprensivo San Francesco di Gela diretto da Giovanna Palazzolo. Domani alle 9 nell'auditorium Virgilio Argento del plesso Paolo Emiliani Giudici interverrà il comandante del reparto territoriale dei Carabinieri, il maggiore Valerio Marra. Il tema che sarà affrontato è uso di stupefacenti e abuso di bevande alcoliche tra i minori. La Cassa Forense oggi, nuovi regolamenti dei contributi e dell'assistenza. Si tratta del tema del convegno promosso dalla Cassa Forense, ordine degli avvocati di Gela e comitato pari opportunità degli avvocati. Appuntamento previsto per mercoledì 18 novembre prossimo alle 15 nell'aula conferenze avvocato Moscato del Tribunale. Adesso occupiamoci della festa di San Martino, oggi iniziativa all'ospice dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela e i particolari in questo servizio. Anche l'ospice di Gela aderisce all'iniziativa nazionale per celebrare questa giornata che è dedicata ad un santo che per ben due volte donò il suo mantello. Questo è davvero significativo? Sì, oggi è la giornata del malato perché tutti gli ospice ogni anno, l'11 novembre appunto ricordano questo santo che col pallium, col mantello come dicevi tu, è sceso e ha dato aiuto e sostegno alla gente sofferente. La stessa cosa fanno gli ospice perché le cure palliative prendono il malato in cura e non solo in cura ma seguono anche un percorso di umanizzazione, c'è un rapporto insieme alle famiglie, insieme a tutti quelli che sono all'interno di questa struttura per cercare di migliorare quella che è la qualità della vita dei nostri pazienti. E noi siamo felici perché finalmente le strutture sanitarie si aprono alla città. Da dove è nata l'idea di sostenere l'iniziativa? Noi promuoviamo tutto quello che può servire, può servire quindi alla città, può servire in questo caso anche a questa struttura. Noi veramente siamo ben contenti di essere qui, tutte qui, in questa realtà che abbiamo veramente trovata accogliente, eccezionale, anche se ripeto, in una realtà è quella di questi malati, però ho sentito anche dalle loro parole, dalle parole dei malati, loro stessi, dalle famiglie, che si sentono bene qua dentro, si sentono bene, si sentono incoraggiati e noi vogliamo partecipare, vogliamo partecipare in questo senso. Questo è un reparto un po' particolare, il rapporto che si instaura con i pazienti è un rapporto diverso, un rapporto più umano forse che professionale. Certamente, qui si nota esattamente quello che lei ha descritto, l'umanità. Io non mi stancherò mai di ringraziare il dottore Alario che ha battuto per anni questo discorso, di creare questo reparto di accoglienza per questo genere di malati. E quindi io lo ringrazio non solo come medico, collega quindi del dottore Alario, ma soprattutto come cittadina, perché non dimentichiamo che l'ospedale è di tutti. Questo è un servizio, un'unità operativa che è stata creata per tutta la nostra comunità. E' festa di San Martino anche nel plesso cantina sociale dell'istituto scolastico Gela e Butera. C'eravamo anche noi, vediamo. Preside, festa in grande stile all'istituto comprensivo Gela e Butera. Si celebra la festa di San Martino, ancorando però questa festa alle tradizioni del territorio. Sì, per noi ormai è diventata una prassi consolidata da quando sono qui accolto con piacere l'invito sin dall'inizio della mia dirigenza di poter festeggiare San Martino. E' una festa che connota fortemente il territorio di Gela. Quest'anno del resto il tema del nostro POF è identità ed integrazione. E allora quale miglior occasione che la festa di San Martino? Da una parte l'identità e il recupero delle tradizioni, che sono le tradizioni culinarie, ma anche le tradizioni culturali, linguistiche e anche dialettali. Dall'altra San Martino è l'esempio tipico di chi per ben due volte regala il proprio mantello e quindi è l'esempio dell'integrazione, della solidarietà di chi si avvicina al più debole. Ed è questa un po' la mission della nostra scuola. Noi operiamo in un quartiere non sempre semplice e allora la scuola diventa un presidio, un baluardo contro la sofferenza, contro anche la difficoltà a poter andare avanti ogni giorno, vista la grave crisi che attanaglia un po' la realtà gelese. Sono stati allestiti dei tavoli molto belli e naturalmente è stata anche un'occasione per allestire un vero e proprio laboratorio di collaborazione tra mamme, papà e figli. Sì, diciamo che questo noi lo facciamo ogni anno e ogni anno forse rischio di essere ripetitiva, ma il rapporto costante con la famiglia per me è fondamentale. I genitori si sono adoperati, lei non ha idea, persino ieri sera sono venuti per allestire i tavoli, per cercare tutte le novità, tutte le prelibatezze che connotano la festa e connotano l'autunno, lavorando in sinergia con i miei insegnanti. Questo credo che sia l'esempio più bello di come possa davvero crescere una scuola. Quindi invito l'amministrazione, invito il territorio di Gela a non lasciare sfuggire questo tipo di occasione, a non disperdere un patrimonio e un lavoro che in questi due anni noi abbiamo fatto in questa scuola. Si terrà sabato 21 novembre alle 20.30 al Teatro Comunale Eschilo di Gela il musical The Wits di Charlie Smalls che sarà portato in scena dal Centro Giovanile Musica e Arte Cesma. Il biglietto di ingresso sarà fornito a chi porterà nella chiesa Regina Pacis o nella piccola Casa della Misericordia dal 15 al 21 novembre la spesa per chi è povero. Termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo, la linea va alla regia per la pubblicità tra poco. Ben tornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Sbarca in Sicilia l'Atlante Italiano dei conflitti ambientali con un tour che vedrà coinvolte le città di Catania, Gela, Licata, Niscemi e Ragusa. La tappa di Gela si svolgerà sabato 14 novembre alle 10.30 presso il Centro Congressi di Macchitella. Sarà presente Salvatore Altiero, attivista dell'Associazione a Sud del Centro di Documentazione sui conflitti ambientali. Gli incontri vedranno protagonisti i comitati territoriali che si battono per un altro mondo possibile. I Carabinieri e le Arti. Questo è il tema dell'edizione del 2016 dello storico calendario dell'arma presentato alla stampa alla Caserma Guccione, subito dopo quella avvenuta alla Scuola Ufficiali di Roma alla presenza del Ministro della Difesa Roberta Pinotti e del Comandante Generale dell'Arma Tuillo del Sette. La rivisitazione delle opere d'arte di Monet, Modigliani, Van Gogh a scandire i 12 mesi dell'anno, ma soprattutto a rappresentare la storia che ha caratterizzato l'arma nei suoi 200 anni, testimonianza di un contributo che quotidianamente i Carabinieri assicurano nella tutela del patrimonio artistico nazionale. Una tiratura di un milione di copie di un calendario dove pittura e arma si intrecciano per avvicinare, sensibilizzare al mondo dell'arte. Da quest'anno inauguriamo un nuovo ciclo e abbiamo tratto ispirazione e chiesto aiuto ai nostri Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, attraverso i quali abbiamo, l'arma ha contattato anzitutto dei critici d'arte, ha elaborato un progetto di rivisitazione di opere d'arte a partire dall'epoca della sua fondazione, quindi dalla prima metà dell'Ottocento fino ad oggi, cercando di trarre da quelle opere che maggior influenza, influsso hanno avuto sulla cultura e sullo scenario artistico italiano, tentando di rielaborare quelle opere in chiave di presenza dell'arma sul territorio e di rassicurazione sociale. L'operazione, il progetto è stato condiviso con chi detiene i diritti d'autore e con le scuole internazionali che curano la diffusione e la commercializzazione di queste immagini. Inaugurazione dell'anno accademico 2015-2016 dell'Unitre, l'Università delle Tre Età di Gela, si terrà sabato 14 novembre prossimo alle 17.30 presso l'auditorium del Liceo Classico Eschilo di Gela. Saluteranno gli ospiti Pina Arces Giordano, presidente onoraria Unitre, Angela Scaglione, attuale presidente, Gioacchino Pellitteri, dirigente del liceo e il sindaco Domenico Messinese. Siamo all'informazione cinematografica e De Marzia, nel sopravvissuto, e il film in programmazione al Cineteatro Antidoto. Sono due gli orari di rotazione della pellicola, ve li ricordiamo, 18.30 e 21.30. Sarà Mariangela D'Abraccio la prossima protagonista della stagione teatrale all'Eschi. L'appuntamento previsto per sabato 14 novembre alle 17.15 e alle 21.15 porterà in scena Cancun. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino di Piazza Salandra dalle 18.30 alle 20.30. Comincerà invece mercoledì 18 novembre la stagione teatrale al Cineteatro Antidoto di Macchitella. La compagnia Antidoto si esibirà in Abriscola per due. Si tratta di due atti di Tiziana Guarneri. Appuntamento alle 21.30. Lo spettacolo sarà proposto anche giovedì 19 novembre, sempre alla stessa ora. Per informazioni bisognerà chiamare il numero di telefono 0933 82 27 07. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione. Vi ricordiamo che gli approfondimenti alle nostre notizie potrete trovarli sul nostro portale, all'indirizzo web www.tg10.it e naturalmente sul nostro televideo. Arrivederci. Grazie a tutti.